480 per 400.000 sono i numeri del piano del governo contro la povertà annunciato dal ministro del lavoro Giuliano Poletti. 480 sono gli euro al mese che, dopo il via libera al decreto attuativo, saranno destinati a 400.000 famiglie povere con figli minorenni, anche a quelle straniere regolari residenti da almeno 5 anni. Il reddito di inclusione sociale è contenuto nella legge delega che domani sarà votato al Senato. L'aiuto di Stato costerà circa 2 miliardi di euro e riguarderà complessivamente 1.600.000 persone che non hanno il necessario per vivere. Secondo l'Istat, gli italiani in una condizione di povertà assoluta sono 4,6 milioni. Per aiutarli tutti servono altri 5 miliardi di euro. La legge delega contro la povertà è un primo passo importante e storico per il nostro paese, in quanto definisce per la prima volta una legge di contrasto alla povertà che ha una vocazione universale. Il limite è proprio questo. Non ci sono risorse sufficienti al momento per questa misura, tale che rischia di essere una misura soltanto categoriale, vale a dire appunto solo per le famiglie con figli. In prospettiva, se le risorse saranno adeguate, questo sarà il modo per cambiare la politica dei servizi del nostro paese e lottare effettivamente contro la povertà assoluta nel nostro paese. La differenza rispetto alla proposta 5 Stelle è che la legge delega contro la povertà si occupa soltanto della povertà assoluta, la povertà più grave e non va verso la povertà relativa. Ovviamente questa misura è sostenibile sul piano finanziario, l'altra evidentemente ha evidenti problemi di sostenibilità economica.